Mi proietta la slide per cortesia. Allora, buonasera a tutti. Nel mentre vedo l'affluenza si riesce a sistemare nella sala, come ha la capienza che ha, di cui mi scuso, io ringrazio gli organizzatori del festival e il professor Zicardi dell'Università di Milano, della Cattedra di Informatica Giuridica, con cui mi pregio di collaborare, per avermi invitato anche quest'anno, a parlare di un tema che evidentemente, vista l'affluenza, riscuote ancora un notevole interesse. E cioè, come spero verrà proiettata, ecco, grazie, la slide dalle mie spalle, la diffamazione nell'era di internet. In particolare, l'anno scorso avevo parlato, avevo toccato già questi temi, ma l'evoluzione giurisprudenziale, che si è verificata proprio nel corso tra il 2013 e l'inizio del 2014, impone un aggiornamento e in parte una rivisitazione dei principi che avevo esposto la volta scorsa, perché ci sono state appunto delle novità che meritano di essere esposte e per una migliore puntualizzazione di quello che può essere la responsabilità sia di carattere penale sia di carattere civile, che non va ovviamente trascurata, nell'ambito della diffamazione e il web. Perché questo incontro verrà diviso un po' in due parti. Una prima parte di carattere più meramente tecnico, specifico, dove tratterò delle norme principali che sono necessarie per la migliore comprensione del fenomeno web se rapportato alla diffamazione e alle espressioni che possono avere contenuto diffamatorio e colunatorio. E poi una seconda parte che entrerà invece proprio nello specifico dell'ambito dell'internet. Mi scuso se qualcuno era già presente la volta scorsa, l'anno scorso, perché fin d'ora ci sarà una sovrapposizione di contenuti, soprattutto nella prima parte, proprio perché le norme cardine non sono cambiate. Per cui sarà necessario ripetere, ma spero che questo possa valere come ripasso anche per me stesso. Allora, cominciamo subito col dire che la diffamazione nell'era dell'internet, soprattutto nell'era del web 2.0, è sicuramente molto più importante, molto più pregnante, molto più lesiva rispetto a quella della carta stampata. Se è vero, infatti, che soprattutto la stampa a tiratura nazionale tuttora gode di una eco maggiore, è altrettanto vero però che, per quanto riguarda internet, le modalità di diffusione, l'articolare modalità di diffusione del messaggio lesivo, ha due aspetti che mancano nella carta stampata. L'estensione illimitata territoriale e la permanenza del messaggio lesivo. Cioè, se il giornale, il giorno dopo, cambia, come diceva, mi sembra in un film, Notting Hill, sì, ma il giorno dopo diventerà carta per i rifiuti, diventerà per avvolgere i rifiuti, invece il messaggio lesivo sul web rimane e rischia di rimanere per sempre, tant'è che si dibatte molto del famoso diritto all'oblio e se avanzerà a tempo, ben volentieri, potremmo affrontare questo problema. Quindi diciamo che, qui, primo, rimane per sempre. Secondo, anche una notizia su un giornale locale, su online, può assumere un'estensione territoriale di carattere mondiale. Io dall'Australia posso sapere che il giornale locale della provincia di Pavia, per esempio, o di Perugia, ha detto una particolare affermazione, ha scritto una particolare cosa che mi riguarda. Ed è molto più facile scovarlo rispetto al passato. Se io mi trovavo all'estero, non potevo sapere, naturalmente, ciò che veniva scritto dal giornale locale, mentre adesso, collegandomi al sito, lo posso sapere. Oppure, non so se avete mai provato a digitare il vostro nome o a emettere il vostro numero di telefono su Google, spesso saltano fuori delle sorprese. E si scoprono dei contenuti di cui noi stessi non eravamo a conoscenza. Ciò detto, entriamo subito nello specifico e vediamo quali sono le norme che disciplinano il reato di rifamazione. E segnatamente, naturalmente, la norma cardine è l'articolo 595 del codice penale che recita, primo comma, chiunque, quindi un reato che può essere commesso da chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a Euro 1032. Quindi abbiamo chiunque, ciascuno di noi, non è un reato tipico, cioè non è un reato che può essere, perdono, non è un reato proprio, non può essere messo, posto in essere solo da determinati soggetti, ma chiunque lo può commettere, comunicando con più persone, quindi devono essere più di una, offende l'altrui reputazione, e vedremo cos'è, è punito con la reclusione o la congiunzione alternativa dice che il giudice è libero di combinare la sanzione della reclusione o della multa. Cosa che si verifica, tra l'altro, nella stragrande maggioranza dei casi. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, aumenta la pena. Terzo comma, ed è quello che ci riguarda più da vicino, quando l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ed è il caso di internet, perché la giurisprudenza dice che nel caso di rifamazione a mezzo internet, cioè per il tramite degli strumenti del web, ecco dei media, dei nuovi media di comunicazione, si rientra nell'ambito del terzo comma, cioè la qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico non ci riguarda, la pena della reclusione da sei mesi o a tre anni, o, quindi non è, sempre pena alternativa, o si applica la reclusione o si applica la multa. È chiaro? La differenza con il reato di ingiuria, che è l'articolo 594, cioè il precedente rispetto a 595, è presto detta. Nell'ingiuria la persona deve essere presente, nella diffamazione no, nella ingiuria abbiamo una, anche la singola persona, invece nella diffamazione ci vuole la presenza di almeno due persone, quindi una pluralità di soggetti destinatari della ricezione del messaggio, nella ingiuria abbiamo l'offesa all'onore o al decoro, mentre nella diffamazione alla reputazione. Quest'ultima distinzione è importante, perché l'ingiuria è l'onore o il decoro, l'offesa, quindi la parolaccia che viene detta al soggetto, chiaro, mentre la reputazione investe un, che è un riflesso dell'onore, investe la considerazione sociale di cui gode un determinato soggetto, la parte offesa. Chiaro? In altre parole, l'onore è un qualche cosa che tutti noi abbiamo, in uguale misura. La reputazione è un riflesso dell'onore inserito nel contesto sociale in cui quel determinato soggetto, parte offesa, opera. Io posso godere, come professionista, di una maggiore e più estesa reputazione di un altro soggetto. Dire che l'avvocato per Gonzi Perrone non è un bravo professionista, affermarlo, non mi lede l'onore, mi lede la reputazione e quindi consente la configurazione del reato di difamazione, articolo 595. È chiaro? Io ricordo un episodio, per esempio, dove un giornalista del mio foro, cioè della città del mio foro, aveva detto che un pubblico ministero non aveva citato per tempo dei testimoni in un processo penale, il pubblico ministero se l'è presa perché ha ritenuto questa frase lesiva della sua reputazione che di per sé non è offensiva, di per sé. Ma non aver citato dei testi avrebbe significato dire che lui non era un bravo professionista, non è stato un bravo pubblico ministero, ha citato e ha vinto, foro di Brescia poi, ha vinto la causa come chiedendo poi l'ulteriore esercimento dei danni, 50.000 euro si è preso. Vabbè. Questo era un episodio che era successo, per esempio, no? Ecco, quindi vediamo che di per sé il giornalista non ha scritto qualche cosa di offensivo, to court, ma la connotazione e il contesto nel quale questo giornalista aveva inserito quel tipo di frase è stato ritenuto dai giudici che hanno deciso quel caso come rifamatorio. E questo è un aspetto estremamente interessante e importante da sottolineare. Ora, vediamo quindi che ci sono dei diritti che sono costituzionalmente garantiti. Abbiamo parlato dell'articolo 3 che parla del tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, cioè quell'onore, quel decoro, quella reputazione sono le espressioni all'interno della quale si estrinseca la personalità di ciascuno di noi che sono dei diritti costituzionalmente garantiti. Ma pari menti vi è il diritto costituzionalmente garantito di libertà del pensiero, di espressione, di manifestazione libera del proprio pensiero che è tutelato dall'articolo 21 della costituzione. La stampa non può essere soggetta a autorizzazione o censure. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola allo scritto o ogni altro mezzo di diffusione. È un altro diritto costituzionalmente garantito. Vediamo che potenzialmente c'è un conflitto tra due norme di rango primario, cioè una norma che tutela il diritto personalissimo, l'onore e la reputazione della persona e dall'altro c'è il diritto di tutti a liberamente manifestare il proprio pensiero. Allora si tratta di stabilire dei criteri per poter dirimere questo potenziale conflitto e per stabilire quali dei due debba prevalere e in quali circostanze. ebbene nel corso dei decenni la giurisprudenza ha fornito i tre elementi cardine credo che quasi tutti sappiamo già queste nozioni di base però sono ripeto per chi magari non le ha approfondite o magari le vuole semplicemente ripassare sono importanti per capire tutto il discorso che viene poi a essere collegato anche con riferimento al web perché questi limiti che sono i famosi tre limiti della verità della pertinenza alla continenza che la giurisprudenza ha elaborato e specificato e precisato nel corso dei decenni con le proprie massime e le proprie sentenze valgono anche per il web quindi non solo per la carta stampata ma anche per il per qualsiasi forma di estrinsegazione del pensiero come vedremo il diritto di cronaca dicevo e di critica soggiacciono agli stessi tre limiti che sono qui espressi qui scritti nella slide dalle mie spalle e quali sono la verità che cos'è senza entrare in discorsi di carattere filosofico che qui non devono trovare non possono neanche trovare spazio comunque diciamo che la verità è il il rispetto della nucleo centrale della notizia diffusa cioè il fatto va narrato e raccontato nella sua naturale evoluzione per come lo si è effettivamente percepito per cui l'episodio se è stato narrato in modo errato ma viene percepito per come è stato percepito viene narrato per come esattamente è stato percepito quindi con una buona fede la cosiddetta verità putativa si ha comunque rispettato il criterio della verità è chiaro poi c'è il requisito della continenza la diffusione della il pregamento come viene narrata la notizia la notizia deve essere esposta deve essere narrata in una forma civile non aggressiva non si devono effettuare cioè degli attacchi ad personam gratuiti chiaro e poi la pertinenza la pertinenza la dottrina e anche la giurisprudenza la divide in due parti la pertinenza oggettiva e la pertinenza indiretta oggettiva è quella rilevanza pubblica della notizia per cui c'è un interesse a che questa notizia venga diffusa che è evidente palese l'elezione del presidente della repubblica o di quel parlamentare ecco sono delle notizie che tutti evidentemente riteniamo di interesse pubblico e quindi la loro pertinenza è in re ipsa poi ci sono quelle pertinenze indirette per cui facciamo l'esempio di un soggetto un illustre sconosciuto che in quanto testimone chiave di un importante processo assorge gli onori della cronaca allora è giusto chiarire chi è questa persona specificare che c'è un testimone chiave che ha visto questo e quest'altro qui a Perugia tra l'altro se ne sa qualche cosa per i trascorsi processuali molto molto notori ecco che ci sono stati non solo ma diventa anche interessante sapere se qualche connotato di questa persona per esempio se quel soggetto il giorno prima o la sera stessa ipotesi di assistere all'episodio delettuoso quindi quel testimone importante quel testimone chiave aveva assunto delle sostanze stupefacenti può avere rilevanza perché la sua percezione dell'episodio può non essere stata corretta e quindi è una circostanza che è interessante narrare ai fini della descrizione del fatto e della diffusione della notizia non è interessante parlare delle abitudini personali di quel soggetto se nulla hanno a che fare se a nulla rilevano se non hanno attinenza diretta con la notizia che si vuole diffondere ciò detto e fatte queste premesse di carattere generale parliamo adesso della normativa specifica che riguarda la stampa periodica e segnatamente di una legge che ormai è risalente perché appunto è del 1948 la famosa legge numero 47 del 48 che detta una serie di norme particolari specifiche per la stampa periodica estremamente importante per i fini che qui ci occupano è l'articolo 1 che dice che dà la definizione di stampa o stampato e dice che questa legge si applica solo per le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione ora anche senza un intervento di un'applicazione di tutte le norme ermeneutiche le regole ermeneutiche di interpretazione del diritto una piana lettura di questa norma lascia intendere che questa normativa può essere applicata già da subito solo la carta stampata perché sono considerate stampe o stampate ai fini di questa legge tutte le riproduzioni tipografiche riproduzione tipografica oppure ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici è chiaro che la riproduzione tipografica destinata alla pubblicazione ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici non può che essere la carta stampata quella tradizionale eppure come vedremo anche recentemente alcuni molti per un certo periodo e adesso solo pochi si sono posti il problema dell'applicazione di questa normativa anche al web che è un diverso mezzo di diffusione del pensiero l'articolo 3 dice che ogni giornale o altro periodico della carta stampata o comunque della definizione del prodotto editoriale della stampa periodica di cui l'articolo 1 che precede quindi ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile e deve essere registrato perché se non è registrato c'è il rischio di ricorrere di incorrere nel reato di quell'articolo 16 sempre della stessa legge che è la stampa clandestina ora come dicevo questa normativa è speciale cioè è dedicata alla carta stampata o meglio alla stampa per come definita dall'articolo 1 che abbiamo visto foc'anzi tant'è vero che si tratta di una normativa speciale e nel diritto c'è un broccardo che dice l'ex specialis derogat l'ex generali perché noi giuristi amiamo parlare in latino non riferirci a qualche cosa di classico l'ex specialis derogat allora la legge speciale deroga la normativa generale quindi si applica solo per quei determinati casi lì e quando si verificano quei casi si applica quella legge speciale questo dice il broccardo che ho citato che si tratti di legge speciale applicabile solo in determinati casi e solo per quelli lo dice anche un intervento successivo del legislatore in materia che ha esteso la portata di determinate norme contenute nella legge sulla stampa alla emittenza radio televisiva quindi se per una diversa forma di comunicazione quale la radio e la televisione il legislatore ha ritenuto in passato opportuno anzi necessario specificare che quelle norme devono e possono e devono quindi venire applicate anche ad altra forma di diffusione del pensiero diversa dalla definizione di cui prima di cui l'articolo 1 della legge 47 e 48 e cioè ripeto la carta stampata significa che quella normativa è ristretta è una normativa speciale che va applicata solo ed esclusivamente in quei casi e che una diversa forma di diffusione non rientra in quei casi cioè che la radio e la televisione sono una cosa mentre la carta stampata è un'altra lo dice il legislatore nei suoi successivi interventi e perché è stato ritenuto necessario perché questa normativa speciale non solo prevede diciamo prevede una serie di norme che riguardano il direttore il responsabile la registrazione eccetera eccetera ma per quello che riguarda il nostro discorso aumenta sconsiderevolmente le pene nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e non o come nel 595 qui c'è una congiunzione che non è avversativa ma dice e quindi il giudice quando deve una volta riconosciuto colpevole il reo non può non applicare anche la reclusione deve applicare la pena della reclusione se una persona se un giornalista nella fattispecie perché si parla ripeto di carta stampata se un giornalista viene considerato colpevole del reato di diffamazione a mezzo stampa con l'attribuzione di un fatto determinato il giudice riconosciuta questa fattispecie deve applicare l'articolo 13 e quindi anche la reclusione e non solo la multa ok pena decisamente elevata perché parte da un minimo di anni 1 per un massimo di anni 6 quindi ci sarà la necessità dell'udienza preliminare a livello procedurale eccetera eccetera quindi una serie di conseguenze e comunque che è sicuramente molto più forte molto più punitiva rispetto alle altre norme che abbiamo visto prima l'articolo 110 dice poi che quando più persone concorrono nella commissione di un reato ciascuna di queste soggiace alla stessa pena in altre parole se un articolo venisse scritto a quattro mani la pena che viene irrogata nel caso che questo articolo abbia un contenuto diffamatorio non viene divisa a metà tra i due soggetti che hanno fatto l'articolo ma ciascuno di loro avrà la stessa pena è chiaro ecco perché è necessario parlare del 110 per parlare dell'articolo 57 del codice penale che dice salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione cioè chi ha materialmente scritto quel famoso articolo difamatorio fuori del caso del concorso cioè se l'articolo non è stato scritto a quattro mani fuori del caso del concorso 110 il direttore o il vice direttore responsabile che omette di esercitare sul contenuto del periodico il controllo è punito a titolo di colpa con la pena stabilita per questo reato diminuita misura non eccedente un terzo che significa il direttore responsabile la cui presenza obbligatoria perché l'abbiamo visto nell'articolo 3 della precedente slide della legge del 47 del 48 deve controllare quello che c'è scritto sul suo giornale tutto quello che c'è scritto sul suo giornale chiaro? se vi è un articolo difamatorio e nonostante il suo controllo viene pubblicato se è riconosciuto dal giudice come difamatorio viene condannato non solo l'autore ma anche il direttore responsabile che ha controllato male o non ha controllato l'omesso controllo quindi per colpa non ha dolosamente magari non ha visto l'articolo non ha dolosamente contribuito alla pubblicazione ma la sua omissione colposa del controllo in genera per questo solo fatto la responsabilità penale ex articolo 57 cioè un reato omissivo colposo la Cassazione per il caso di cui avevo parlato l'anno scorso cioè per il caso Scalzallusti ha specificato anche che due principi di carattere generale che già erano desumibili dalle precedenti pronunce che comunque sono stati ulteriormente specificati e dice che in caso di pubblicazione di articolo difamatorio il direttore può essere chiamato titolo di concorso quindi come se l'avesse scritto quattro mani quando vi è stata ed è desumibile la sua consapevole adesione alla pubblicazione cioè quando vi sono una serie di elementi tali da ritenere che il direttore non ha colposamente cioè non si è semplicemente distratto ha fatto male il suo lavoro ma pur vedendo l'articolo ha detto pubblichiamolo lo stesso sono d'accordo e quindi si riesce ad esumere questo comportamento si riesce a ricavare la prova che non è stata una colpa omissiva ma un vero e proprio dolo una consapevolezza della pubblicazione allora quando c'è questo meditato consenso risponde ai sensi del 110 come coautore del reato primo principio secondo principio riguarda lo pseudonimo se non si riesce a risalire al vero autore dell'articolo diffamatorio perché ha firmato con uno pseudonimo allora la responsabilità può essere attribuita direttamente direttore responsabile in sintesi ok salva la prova di aver naturalmente di rientrare nell'ipotesi di cui al 57 cioè nella colpa omissiva chiaro fin qui il discorso spero se ci fossero dei dubbi delle domande ok andiamo avanti dicevo la responsabilità quando si parla di diffamazione viene quasi sempre indicata come di carattere penale è vero ma esiste anche la responsabilità civile e mi si dirà sì se uno viene condannato se un giornalista viene condannato in sede penale allora vi sarà anche il diritto della parte offesa al risarcimento del danno non è così non è così perché la Cassazione ma comunque anche i principi generali che regolano la materia civile penale dicono che perché si verifichi la condanna in sede penale ci devono essere determinati presupposti determinate caratteristiche diciamo perché si verifichi una condanna in sede civile questi presupposti possono essere diversi cioè le due materie sono regolate da principi regolatori che sono tra loro differenti nell'ambito del processo penale per arrivare alla colpevolezza è necessaria la quasi certezza della commissione del fatto nell'ambito processual civilistico è sufficiente quello che per citare sempre il broccardo latino che piace tanto a noi giuristi l'id quot plerunque acidit cioè ciò che per lo più si verifica la probabilità che i fatti si siano svolti in un determinato modo da un lato civile probabilità dall'altro penale quasi certezza non solo ma perché si verifichi un danno in sede civile basta che il danno vi sia e rientri in un'ipotesi generale anche analogica che può essere applicata anche l'analogia in sede civile anche analogica di una determinata fattispecie quindi ho ricevuto un danno per colpa di un determinato comportamento che viene assimilato a un comportamento un altro comportamento previsto da un'altra norma le situazioni sono simili sono analoghe in sede civile posso applicare questa analogia in sede penale no vige il principio di tassatività della norma penale solo e soltanto nella misura in cui il comportamento realizzato dalla gente è esattamente quello che è delineato e specificato dalla norma incriminatrice solo e soltanto in questo caso si avrà la condanna e si avrà la realizzazione del reato è chiaro? per questo che mi sono soffermato sulla quando parlavo dell'articolo 595 sulle singole parole sulle singole lettere anche in determinati casi e o la posizione delle virgole nella norma è importante la congiunzione o l'avversione la particella affermativa sono importanti dire procedimento fisico chimico vuol dire esattamente quello e va interpretato nel suo esatto significato perché al di fuori di quell'esatto significato non si viene condannato in sede penale è chiaro? ecco infatti la Cassazione civile ha stabilito che cosa che non sia verificata nell'ambito penale per esempio che anche una insinuazione sapiente potrebbe giustificare la condanna del giornalista a un risarcimento civile perché siamo in ambito civilistico il rapporto tra l'azione civile e l'azione penale come vi dicevo non è necessariamente conseguenziale cioè non sono due mondi che sempre comunicano tra di loro possono anche non comunicare come in questi casi per esempio quando la Cassazione recentemente si è interessata di questo rapporto e dice che la sentenza penale di proscioglimento non necessariamente comporta un rigetto della domanda di risarcimento del danno per lo stesso fattoreato contro la stessa persona in sede civilistica assolutamente no anzi vale come non è una prova legale ma vale come elemento di cui il giudice deve tenere conto nella sua valutazione di accoglimento rigetto della domanda in sede civile ma un proscioglimento in sede civile può comportare una condanna perdon un proscioglimento in sede penale quindi una soluzione in sede penale può anche comportare una condanna al risicimento del danno in sede civile e quindi è importante anche valutare le conseguenze civili del comportamento diffamatorio che non è soltanto quello descritto dalla normativa del 595 chiaro o meglio non solo nei sensi indicati dalla giurisprudenza processual penalistica perché l'articolo 11 della legge sulla stampa dice che per i reati commessi dal mezzo della stampa e qui si parla di reati sono civilmente responsabili anche il proprietario delle pubblicazioni e l'editore ma nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa articolo 12 la persona può chiedere oltre al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale una somma a titolo di riparazione e questa norma va spiegata e cioè nel caso di risarcimento noi sappiamo che l'ordinamento italiano non prevede la formula punitiva io subisco un danno la legge relazione civile dice che questo danno mi deve essere riparato e basta quindi se come tutti sappiamo facciamo un incidente in macchina abbiamo ragione non ci viene ripagata la macchina nuova ma ci viene ripagato il valore della vettura attuale cioè il momento in cui viene effettuato poi ci viene ripagato magari il periodo di assicurazione lungoduta alcuni parlano del fermo tecnico del veicolo ma il risarcimento finisce qui perché non vi è una formula di risarcimento punitivo di tipo anglosassone c'è soltanto una funzione di ristoro della perdita economica che si è subita ma vi è anche la possibilità di un ristoro morale ma solo in determinati casi uno di questi casi è qualora vi sia la commissione di un reato ce lo dice l'articolo 185 del codice penale cioè quando si verifica un reato la parte offesa ha diritto oltre al ristoro di carattere patrimoniale economico anche un ristoro morale il cosiddetto danno morale è chiaro? l'articolo 12 va oltre e ci dice c'è il ristoro economico la perdita patrimoniale danno emergente lucro cessante i soldi che io ho perso per colpa di poi c'è un ristoro di carattere morale e c'è anche un'ulteriore somma a titolo di riparazione quindi in questo caso come poi vedremo la pretesa risarcitoria della parte offesa è particolarmente incisiva e può raggiungere degli importi anche abbastanza elevati per cui se una diffamazione di un semplice terzo comma del 595 a livello penalistico può comportare una pretesa punitiva blanda una semplice multa cosa importa una semplice multa o si paga la multa o comunque dopo un po' di tempo si può anche cancellare dalla fedina penale con gli istituti appositi previsti dal codice per cui può rappresentare una particolare deterrente invece la pretesa economica per esempio di una società che si sente diffamata come è accaduto recentemente che può arrivare anche a svariati milioni capite che rappresenta un deterrente molto più forte di quello penalistico ci ho detto vediamo brevissimamente come viene trattato alcune forme di giornalismo dalla giurisprudenza il giornalismo d'inchiesta gode di una maggiore tutela diciamo perché essendo per sua natura incapace di rappresentare un fatto già delineato e definito in tutti i suoi contorni avrà una maggiore godrà di una maggiore scriminante diciamo così nel senso che ci sarà una meno rigorosa ecco applicazione del principio dell'attendibilità della fonte fermi restando i limiti che avevo già delineato nelle diapositive precedenti in altre parole la verità putativa la rappresentazione del soggetto di una determinata circostanza purché rappresentate in modo corretto e purché vengano verificate in modo esatto e corretto le fonti da cui viene tratta la notizia una volta esposta e rappresentata con questi limiti e con questa correttezza godrà della scriminante del diritto di critica e di cronaca è chiaro? a maggior ragione il giornalismo di denuncia che si basa su sospetti di illeciti questi sospetti dice la Cassazione non devono essere obiettivamente assurdi ma devono essere motivati e argomentati sulla base di elementi obiettivi e rilevanti qualora ci siano cioè degli elementi obiettivi rilevanti motivati argomentati degli elementi forti allora il giornalismo di denuncia potrà propalare la notizia diffondere la notizia chiaro? perché godrà della scriminante del diritto di cronaca e di critica non devono naturalmente essere attacchi ad personam non devono essere espressi in modo congetturale e la Cassazione poi nella sentenza indicata specifico ulteriormente comunque la sintesi è quella che appunto vi ho detto a maggior ragione la satira e questo è interessante perché la satira che si basa sull'iperbole si basa su una forma artistica che mira chiaramente al sarcasmo e all'irrisione gode anche qui di una forte scriminante di un forte ombrello protettivo perché è incompatibile ovviamente con il parametro della verità ma se facendo satira si diffonde una notizia falsa si risponde del reato di difamazione facciamo un esempio se mi si ritrae mentre parlo al festival del giornalismo dicendo facendo una frase irrisoria in una vignetta con su scritto l'abbocato Perrone parla al festival del giornalismo di Perugia si rientra nel diritto di satira è chiaro? ma se la stessa immagine identica viene sottolineata come l'avvocato Perrone partecipa all'incontro nazionale della mafia siciliana questa è una notizia falsa l'immagine è la medesima il proposito è identico ma si dice che io ho partecipato all'incontro nazionale della mafia che non è vero allora in questo caso non si ricade nell'ombrello protettivo della scriminante del diritto di satira chiaro? Ultima cosa prima di entrare nell'ambito specifico del web e dovremmo fare a tempo sono i rapporti con la privacy nell'ambito del diritto di cronaca ci sono ovviamente delle comunicazioni di dati personali tenete presente che quando un avvocato non sa più come attaccare un determinato soggetto utilizzando gli articoli classici del codice civile o del codice penale se non sa da che parte pigliare non sa da che parte aggrapparsi va a cercare qualche piega nella normativa sulla privacy che lì sicuramente qualche cosa riesce a cavare dal buco e infatti è un caso recente e ho citato appunto il caso di Amanda Knox dove un quotidiano aveva dato notizia delle sue abitudini sessuali non si è ritenuto che vi fosse un elemento diffamatorio ma si è ritenuto che vi fosse un illecito trattamento del dato personale perché la comunicazione dei dati dice la legge sulla privacy deve essere data deve essere effettuata quando è indispensabile cioè fornire dei dettagli soprattutto che riguardano i dati sensibili il credo religioso le opinioni politiche quelli che riguardano la sfera sessuale sono tutti dati sensibili diffondere questo genere di dati appartenenti a una persona magari non configura ipotesi di diffamazione in senso stretto ma può rappresentare un illecito trattamento del dato personale che attenzione anche in questo caso può essere penalmente rilevante perché gli articoli 166 167 del codice della privacy vado a memoria sono degli articoli penali e con una richiesta di risarcimento del danno anche qui abbastanza sensibile e quindi entriamo adesso nella parte del web se tutto questo discorso questo elenco di norme questo impianto accusatorio in ambito penale e diciamo descrittivo delle responsabilità civili vale sicuramente per la carta stampata e su questo non ci piove la domanda da porsi adesso è vale anche per il web e per tutte le forme di diffusione del pensiero nel web su internet o per alcune sì e per altre no cominciamo quindi con l'ipotesi più affine e cioè con il giornale telematico abbiamo visto la carta stampata ci sono quelle norme che abbiamo esaminato articolo 13 57 codice penale eccetera vediamo se è applicabile al giornale telematico quindi la testata giornalistica che è edita online l'articolo 57 dice la Cassazione già da 2010 si riferisce solo alla carta stampata la lettera della legge già da 2010 si diceva è inequivoca e a tale conclusione porta anche l'interpretazione storica della norma e non si può applicare l'articolo 57 che ricordo è la responsabilità colposa omissiva del direttore responsabile del quotidiano o del periodico non si può applicare al direttore di un quotidiano online neanche per quella parte di commenti che spesso si vedono sotto la notizia e che vengono pubblicati dai lettori ok questo è quello che diceva la Cassazione nel 2010 d'altra parte prosegue questa sentenza il discorso che avevamo fatto prima ci sono volute delle norme ad hoc per la radio e la televisione per cui la diversità strutturale tra quei due media non può valere solo per quei casi lì e non anche per il web se la diversità strutturale permaneva tra la carta stampata e la radio e la televisione c'è una diversità strutturale che va riconosciuta anche per il web ragion per cui ragionamento logico deduttivo non si può applicare al web la norma che vale per la carta stampata punto chiaro avevo appena finito di esporre questa massima rispondendo alla domanda di un vostro collega che chiedeva se il blogger poteva essere ritenuto responsabile per il commento difamatorio di un terzo dicendo naturalmente no perché i principi espressi dalla corte di Cassazione sono chiari che la settimana successiva vengo immediatamente smentito dal GIP di Varese che dice l'esatto contrario di quello che ho appena detto e cioè la sentenza del 22 febbraio 2013 che però è stata depositata solo ad aprile rivela che addirittura il pubblico ministero aveva formulato le accuse ai danni di una blogger non per un post scritto da lei stessa ma di un visitatore cioè di un utente aveva formulato le accuse ricorrendo proprio alla legge sulla stampa e ipotizzando una responsabilità colposa omissiva ai sensi dell'articolo 57 che più volte abbiamo citato in altre parole qualsiasi blogger qualsiasi sito gestito qualsiasi webmaster che gestisce un sito i cui contenuti possono essere alterati da parte di terze persone registrate o meno risponderebbe secondo l'impianto accusatorio di questo pubblico ministero del reato di diffamazione aggravata 595,3 con l'ipotesi anche di ricorrere all'articolo 13 se c'è il fatto determinato quindi da 1 a 6 anni di carcere dice il GIP di Varese pur quasi scusandosi di non poter accogliere in toto questo ragionamento del pubblico ministero dice perché dall'esame dei lavori preparatori effettivamente dice il GIP si evince che il legislatore all'epoca non poteva certo sapere che sarebbe venuto di lì a decenni avvenire dei delle nuove dei nuovi mezzi di comunicazione non poteva sapere che ci sarebbe stato internet ragion per cui sostiene questa formula del che è stata prevista della legge sulla stampa è stata prevista solo perché il legislatore non aveva altre paragoni altri altri elementi per poter indicare delle nuove forme di diffusione dello scritto come è appunto il web quindi sostiene il giudice è che compete all'interprete attribuire a un sito internet sulla base delle sue caratteristiche intrinseche la natura di stampa assimila il GIP la pagina web alla stampa questo è quello che ha fatto tuttavia contraddice poi se stesso nella seconda parte della sentenza e dice per cui ha ragione il pubblico ministero ad aver ipotizzato il reato di cui l'articolo 57 però dice lo stesso GIP non posso attribuire la responsabilità ex articolo 57 che è una responsabilità indiretta in quanto attribuisco alla webmaster una responsabilità diretta non per omesso controllo ma per il fatto che avendo la webmaster la possibilità quindi una specie di concorso se vogliamo avendo la webmaster una possibilità diretta di controllo di tutto il contenuto della sua pagina del suo sito questo messaggio viene a lei direttamente in prima persona attribuito e quindi la condanna a mille euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali non so che esito ha avuto questa pronuncia perché appunto è soltanto dell'anno scorso per cui gli appelli voi sapete che ci mettono qualche anno prima di venire spero che sia stata appellata e che a venire resi note venire trattati però subito dopo fortunatamente il tribunale di Roma in un caso abbastanza noto cioè dell'onorevole Previti contro Wikimedia ha precisato che i fornitori di un servizio di hosting non sono responsabili di quanto viene scritto da parte di terze persone soprattutto se questi terzi sono potenzialmente dei milioni cioè applicare quello che quei principi che sono stati detti dal GIP nella sentenza di prima avrebbe significato di fatto imbavagliare il web o comunque chiudere il web 2.0 dove c'è una partecipazione dell'utente alla formazione del contenuto della pagina della pagina internet invece con questa sentenza successiva ma comunque parallela il tribunale di Roma già ha posto dei paletti ha detto no l'onorevole Previti si era lamentato del contenuto di un di una notizia che lo riguardava all'interno di Wikipedia ha fatto causa Wikimedia e il giudice ha ritenuto che non vi fosse una responsabilità dei gestori del servizio di hosting perché non erano responsabili di questo contenuto ma soprattutto la parola fine è venuta dalla Cassazione la quale dice che proprio espressamente con una sentenza recentissima di un mese fa depositata il 5 marzo del 2014 il direttore di un giornale telematico non può rispondere ex articolo 57 chiude mette la parola fine e lo dice perché per una questione per un motivo di carattere direi ontologico proprio perché non si può parlare di stampa non non il web non rientra nelle ipotesi di cui l'articolo 1 della legge 47 del 48 impossibilità di ricomprendere l'attività online al concetto di stampa e non è equiparabile il giornale telematico alla stampa per cui si esclude l'applicabilità di tutte le norme sulla stampa al web ora se però c'è un contraltare cioè se però le norme sulla stampa non possono venire applicate allora il sito benché sia stampa online è sequestrabile mi spiego noi sappiamo che l'articolo 21 al terzo comma impedisce il sequestro del giornale del periodico se non ai fini probatori le tre copie eccetera non si può sequestrare c'è una garanzia a livello costituzionale sull'insequestrabilità della stampa ma se il web non è considerato stampa in bonan partem cioè in favore dei soggetti che sul web operano questi stessi soggetti poi non possono invocare la legge sulla stampa per evitare il sequestro del sito perché o si accoglie in toto la normativa o si respinge in toto la normativa è chiaro per cui ho voluto citare questa sentenza che ho trovato che parlava appunto dell'ammissibilità del sequestro preventivo mediante oscuramento del sito ricorrendo determinati presupposti ho ancora cinque minuti vero cinque vado avanti e qui parliamo del caso che di google contro vivi down che è balzato gli onori della cronaca perché anch'esso era stato indicato come un pericolo per la sopravvivenza del web la Cassazione ha messo la parola fine a questa vicenda anche qui recentemente nel febbraio con il deposito della sentenza il 3 febbraio del 2014 e direi posto rimedio definitivamente a quello che molti che come me si occupano di questa materia avevano fin da subito ritenuto come un clamoroso errore cioè la condanna del tribunale di Milano avvenuta nel 2007 contro due amministratori delegati di Google Italy e il responsabile della policy sulla privacy sempre di Google Incorporated per la violazione di due norme della legge sulla privacy ora qui si trattava di un capo di imputazione che veniva formulato nei confronti di questi soggetti per omissione della informativa sulla legge sulla privacy e tramite una serie di argomentazioni giuridiche peraltro molto ben formulate molto ben articolate anche se a mio avviso errate si era arrivati alla condanna di questi soggetti ora voi capite che arrivare alla condanna di amministratori delegato di Google per l'emissione di un video all'epoca era Google Video per un video che era stato messo in rete su Google Video da una terza persona e quindi non direttamente da quei soggetti significava esporre chiunque avesse un sito e gestisse un sito il cui contenuto poteva essere modificato da terze persone esporre che cosa alla possibilità di essere condannato per delle azioni che erano state compiute da terze persone vi ricordate l'episodio era il famoso episodio Vivi Down cioè c'era un ragazzo affetto da sindrome di Down che era stato ripreso col telefonino mentre veniva ingiuriato da compagni di classe questo questo video era stato poi era stato fatto l'upload su Google Video all'epoca e era stato diffuso in rete dopo un po' di tempo si erano interessate delle associazioni Vivi Down eccetera che avevano fatto nascere questo caso da cui poi è approdata è partita l'azione penale ai danni di questi amministratori delegati e dei responsabili della polisi Tribunale di Milano dicevo condanna la Corte d'Appello la sentenza viene appellata la Corte d'Appello fortunatamente assolve questi amministratori gli imputati ma li assolve dicendo che era stato sbagliato l'articolo fondamentalmente cioè non non come dire non riforma la sentenza entrando proprio nel merito della inapplicabilità di quella normativa al contesto nuovo dice semplicemente che l'articolo era sbagliato per cui al posto del 167 nella fattispecie andava applicato il 161 ragion per cui il 161 non è norma che prevede una sanzione penale ma amministrativa e quindi l'azione era sbagliata questo dice la Corte d'Appello e poi per la mancanza del dolo specifico che è richiesto dalla norma vabbè fortunatamente interviene con la Corte di Cassazione con la sentenza del 2014 sopra richiamata la quale fissa dei punti precisi di principio molto forti e precisi e cioè che la violazione dell'informativa che è stata alla base del capodiputazione dei pubblici ministeri durante il processo originario non poteva la violazione è punita solo dall'articolo 161 come già aveva detto la Corte d'Appello quindi confermando la sua visione ma soprattutto ed è questo l'elemento importante sottolinea la presenza di una normativa ad hoc in tema di responsabilità civile e anche penale di riflesso ma soprattutto civile che è quella di cui alla legge 70 2003 che è l'attuazione della direttiva comunitaria sul commercio elettronico e la società dell'informazione molto sinteticamente questa normativa dice che il prestatore del servizio l'hosting non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio lo dice espressamente non solo ma che l'hosting provider non è assoggettato non è tenuto a un obbligo generale di sorveglianza ragion per cui siccome anche questa è una normativa di carattere speciale che andrà affiancata all'altra normativa anch'essa speciale della legge sulla privacy ci sono due norme questa normativa particolare grazie 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 grazie